benvenuti amiche in questo nuovo video e in questa nuova ricetta oggi facciamo i nutellotti ma senza forno seguitemi che li prepariamo insieme per fare questi dolcetti senza forno occorreranno 20 grammi di margarina per dolci oppure burro vi servirà anche un cucchiaio di cacamaro quanto basta di caffè 150 grammi io ho scelto savoiardi voi potete scegliere altro tipo di biscotti secchi 3 cucchiai di nutella le nocciole sono facoltative vi servirà anche un cucchiaio di rum se avete bambini potete usare il latte per prima cosa prendiamo i nostri savoiardi e li mettiamo in un frullatore dobbiamo ridurli in polvere come farina una volta ottenuti i savoiardi in polvere li versiamo in una bull di vetro al suo interno vado aggiungere i 20 grammi di burro e vado aggiungere anche i miei due cucchiai di nutella e comincio a lavorare aggiungo anche il rum quanto sarà tutto bello assorbito posso anche aggiungere il rimanente cucchiaio di nutella il cacao in polvere e verso anche il mio caffè se l'impasto dovrebbe essere troppo molle aggiungete un po di cacao amaro e invece se è duro o vi aiutate con un po di latte o se volete aggiungere un altro po di caffè ed ecco il mio impasto punto ora ne prendo un pizzicotto e comincio a rotearli tra le mani ecco qua faccio un piccolo buchetto al centro e ottengo il mio nutellotto unitevi di sac a poche aggiungete al suo interno della nutella morbida e riempiamo tutti i nostri nutellotti li modelliamo ancora un po con le mani i nostri nutellotti dopo essere preparati possono stare due ore senza metterli in frigo perché c'è freddo così si riposano prendono tutti i sapori e sono ancora più buoni dopo che l'abbiamo riempiti li possiamo anche livellare con una spatolina e così sono ancora più presentabili allora le nocciole sono facoltative se volete li lasciate così oppure potete aggiungere qualche nocciola io spero che anche questa video ricetta vi sia piaciuta alla prossima io vi lascio un bel bacio un grazie e una buona giornata e fate questi dolcetti e fatemi sapere se se vi sono piaciuti